Venerdì 10 agosto 2018. Mancano 143 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Lorenzo Martire. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenzo. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Lana. Deriva da soprannomi connessi con il mestiere di filatore o tessitore di lana, ma in alcuni casi può derivare dalla ferisi del nome germanico Gailana. Lana ha diversi nuclei in Sicilia, nel Lazio, nelle Marche, in Veneto e in Lombardia. La variante Lanaro ha un probabile ceppo originario a Vicenza. Accadde oggi. Il 10 agosto del 1893 ad Augusta, Rudolf Diesel fa funzionare il suo primo modello. Per questo motivo il 10 agosto è la giornata internazionale del biodiesel. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo Camillo Benso Conte di Cavour, nato a Torino il 10 agosto 1810. La citazione da ricordare. Non si ha mai tanto bisogno di una vacanza quanto nel momento in cui vi sia appena tornati. Han Landers. Dice il saggio. Anche da solo in una stanza buia, comportati come se avessi di fronte un nobile ospite. Proverbio cinese. Un consiglio al giorno. Vi siete macchiati con un pennarello. Basterà strofinare del sale fino sulla macchia e questa sparirà facilmente.